Charli Zetteron dal Sudafrica alla, ecco linizio della sua carriera Charli Zetteron è nata a Benoni, in Sudafrica, nel 1975 ed è cresciuta nella fattoria di famiglia. Fin da piccola si è avvicinata al mondo delle arti, prima presso la Scuola Nazionale di Johannesburg, poi facendo la modella È stata proprio la sua carriera di modella a portarla prima in Europa e precisamente a Milano e in seguito in California Ha debuttato nel mondo del cinema nel 1995, con una parte nel film Children of the Country, ma è passato davvero poco tempo prima che ottenesse il suo primo ruolo da protagonista nel 1997, nel film L'Avvocato del Diavolo Da allora la sua carriera è decollata, sia grazie al talento nella recitazione, sia grazie alla sua bellezza senza filtri che ha fatto sognare milioni di uomini La sua eleganza e raffinatezza hanno creato un nuovo standard di bellezza nel mondo di Hollywood, diventando una nuova icona di stile a livello internazionale Forse però, non tutti sanno che il suo passato in Sudafrica non è sempre stato perfetto a causa della morte del padre, di un infortunio al ginocchio e di un trauma familiare Un'infanzia non sempre facile Gli antenati di Charlie Zetteron sono stati tra i primi coloni francesi ad arrivare in Sudafrica, lei dopo aver frequentato la scuola primaria, fu iscritta in un collegio, al seguito del quale iniziò la Scuola Nazionale delle Arti di Johannesburg Ha vissuto nella fattoria di famiglia, proprio nel pieno dell'apartheid Il padre soffriva di alcolismo ed era solito minacciare e talvolta aggredire fisicamente la madre, che durante uno di questi episodi il 21 giugno 1991, lo uccise sparandogli Per questo motivo fu processata e ritenuta non colpevole per legittima difesa. Questo trauma familiare causò non pochi problemi a Charlie Zetteron, la quale è sempre stata piuttosto refrattaria al matrimonio, probabilmente a causa dei fatti accaduti in famiglia Oltre a questo, uno dei suoi grandi sogni è sempre stato quello di fare la ballerina, così ha studiato al Geoffrey Ballet Show di New York, ma a causa di un infortunio al ginocchio, fu obbligata ad abbandonare la sua carriera, dedicandosi ad altro La Teron è sempre stata una donna in grado di resistere ai problemi e di rinascere sia a livello umano, che professionale La sua fama è molto più che meritata e il suo talento ha avuto modo di essere apprezzato dal pubblico di tutto il mondo La carriera di Charlie Zetteron negli Stati Uniti. Charlie Zetteron è arrivata negli Stati Uniti dopo aver trascorso un periodo in Europa come modella. In seguito si è trasferita oltreoceano per proseguire la sua carriera a New York Una volta arrivata negli Stati Uniti, ha deciso di abbandonare le passerelle per dedicarsi alla sua grande passione, la danza L'infortunio però le ha impedito di costruirsi una carriera nel settore, così ha iniziato a recitare in alcune pubblicità ed è stata proprio quella la strada a condurla al successo straordinario che ha raggiunto oggi Charlie Zetteron fu notata proprio a Los Angeles, da un impresario, mentre litigava con un impiegato della banca. Le sue doti comunicative rimasero impresse, rilevando ben presto un talento straordinario Nel 1995 ha esordito a Hollywood e nel 1997 ha ottenuto il suo primo ruolo di protagonista Oggi Charlie Zetteron è un'attrice di successo, ma anche un'attivista, nel 2007 infatti ha creato la sua fondazione di solidarietà in Africa per aiutare i bambini colpiti dalla povertà Grazie a tutti